ciao ragazzi eccoci per un nuovo video voglio far vedere il mio ultimo acquisto che va ad arricchire la mia sala giochi e ragazzi è il fantastico sgabello arcade one up di mortal combat vedete che si abbina perfettamente al cavità di mortal kombat che adesso andiamo anche ad accendere niente cosa devo dire ragazzi è veramente molto semplice da montare state attenti solamente quando fate l'anello diciamo state attenti solamente quando montate l'anello le prime viti non stringetele troppo sono poi l'ultima fate fatica a montarla ecco qua perché la sua bellissima scatola alla fine avanzate anche quattro piedini perché ci sono i piedini sia se volete montarlo basso che non so cosa possa servire sia se aggiungete poi il pezzo i quattro pezzi finali quindi vi avanzano quattro piedini di scorta volendo ecco alla fine sono una dozzina di viti più o meno da montare ci sono già fornete al suo interno le brugole e quindi veramente semplice diciamo che rispetto agli sgabelli che avevo da bar o da cucina questo ha veramente l'altezza giusta una volta che vi siedete per giocare a questi cabinati adesso vi faccio vedere la differenza vedete che ci sono 7 8 centimetri di differenza di altezza e niente ci voleva pochi io l'ho trovato in offerta su vabbè moto sito di e commerce a 66 euro altrimenti abitualmente costano attorno alle 100 euro veramente comodo veramente morbido si sta veramente comodi sopra e il prossimo acquisto molto probabilmente cercherò quello di pacman da abbinare al cabinato di pacmania però onestamente a prezzo pieno 100 euro un po troppo anzi si trova anche a di più di 100 euro quindi adesso valutero se li trovate in offerta ragazzi è veramente solido anche bello pesante non c'è veramente niente da dire io sono abbastanza per cui vedete anche qua l'ultimo acquisto la maglietta di space invaders ve lo consiglio assolutamente fantastico comodissimo se volete giocare da seduti su questi cabinati è veramente l'ideale si abbina benissimo ad una ad una sala giochi domestica comodissimo bellissimo le grafiche molto 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 belle assolutamente consigliatissimo a card one up mortal kombat vedete aggiustabile a card stool with standing legs regolabile sgabello regolabile con gambe allungabili veramente veramente un pezzo fantastico per la mia sala giochi bene ragazzi grazie per aver visto anche questo video al prossimo alla prossima volta mi sta arrivando un altro mini cabinato della linea my arcade ciao ciao